Grazie, buongiorno a tutti. Il titolo di questa presentazione fa capire che c'è stato un grosso cambiamento, anche culturale, negli ultimi anni. Quando si è iniziato a fare ECMO, il malato in ECMO era un malato in ventilazione controllata e veniva staccato in controllata. Poi nel tempo abbiamo pensato di utilizzare l'ECMO per facilitare il passaggio in assistita e il passaggio successivo è stato quello di arrivare a proporre l'awake ECMO, cioè il malato che viene svezzato prima dal ventilatore che dal bypass o che addirittura viene messo in bypass per non essere intubato. Detta così sembra facile, in realtà è una cosa un po' complessa da fare. Chiaramente l'obiettivo, che è comune, che vale per ogni volta che noi vogliamo mettere un malato in respiro spontaneo, indipendentemente dal fatto che sia in ECMO, è quello di mantenere i vantaggi associati a un'attività respiratoria spontanea, ce li ha spiegati bene l'io, garantendo il comfort del paziente e soprattutto una modalità ventilatoria protettiva, cioè evitare che il paziente faccia degli sforzi ispiratori eccessivi che quindi generi delle pressioni traspolmonari, strain, stress, come volete, eccessivi. Ci sono diversi problemi, il titolo è problemi e soluzioni, io faccio vedere più problemi che soluzioni, per la verità. Comunque ci sono diversi problemi. Il primo, molto rapidamente, è il problema della sedazione, del comfort del paziente, i malati in terapia intensiva, i malati che vogliamo tenere svegli in ECMO, hanno chiaramente bisogno di un po' di sedazione perché l'ambiente è molto stressful, perché possono avere dolore, ansia, perché hanno dei presidi che è importante che non si dislochino e quindi bisogna cercare di trovare il cocktail sedativo adatto che garantisca il mantenimento dell'attività respiratoria, dell'avere il paziente calmo, cooperativo e al tempo stesso però non troppo sedato. Non ho ricette. Sapete che adesso va molto di moda la dexmedetomidina, che sulla base dei dati della letteratura potrebbe essere un sedativo molto buono, soprattutto in questo tipo di malati. Io non ho, devo dire, una grossa esperienza. Ognuno poi sceglie i cocktail che vuole. È indiscutibile, è esperienza di tutti, che il problema della sedazione, del malato in terapia intensiva è uno dei problemi principali che abbiamo. Credo che il punto centrale di questa relazione, ne ha parlato prima Leo, sia quello del controllo del drive del malato e dello sforzo ispiratorio che fa il malato. Ogni volta che noi abbiamo un malato in extracorporea, c'è sempre un'interrelazione molto complessa tra il drive del paziente, l'effetto sul drive dei sedativi, della sedazione farmacologica, e l'effetto sul drive del gas flow, cioè della ventilazione del polmonio artificiale, cioè di quanta CO2 il polmonio artificiale rimuove dal sistema. E questo è il punto delle prossime diapositive, credo che sia un po' il punto centrale di tutta la presentazione. Ci sono degli studi, questo è uno studio famoso, pubblicato nel 77, mi sembra, su anestesiologi dal gruppo di Kolobov, a Bethesda, che ha dimostrato che se si prende un animale, lo si attacca a un circuito extracorporeo e si aumenta progressivamente la quantità di CO2 che viene rimossa dal circuito extracorporeo, l'animale riduce progressivamente il suo volume minuto fino all'apnea. Voi sapete che c'è una relazione inversa fra la pressione parziale arteriosa di CO2 e la ventilazione alveolare, nella fisiologia classica è così, e questo è dimostrato. Attacchiamo l'animale, rimuoviamo col circuito extracorporeo il 100% della produzione metabolica di CO2, e l'animale va in apnea. Questo sono risultati che sono stati poi replicati da Thomas Langer negli Stati Uniti. Questa è un attacca di una pecora e lui ha preso delle pecore, le ha studiate prima da sane, poi ha indotto la RDS con l'acido oleico e ha studiato la possibilità di modulare il drive respiratorio nell'animale, prima e dopo il danno, con il circuito extracorporeo. E che cosa ha visto? Ha visto delle curve molto simili a quelle che abbiamo visto prima. Se le guardate così, le curve sembrano identiche, hanno la stessa pendenza, però ci sono delle differenze molto importanti, soprattutto hanno una diversa intercetta. Cioè l'animale sano va in apnea, esattamente come abbiamo visto negli studi di Kolobov. Nel malato ci sono delle differenze. L'intercetta è intorno a 23-24, che vuol dire che sul lavoro c'è scritto così, l'animale deve respirare il 20-25% in più, deve aumentare del 20-25% il volume minuto per eliminare tutta la CO2, cioè che il 25% della VCO2 totale può essere eliminato senza avere un effetto significativo sulla ventilazione alveolare o sul volume minuto. E l'altra cosa è che la risposta alla CO2 negli animali con ARDS, e questo poi era già stato visto anche in uno studio di Marco Lin su uomini, è molto eterogenea e che ci sono degli animali con ARDS che mantengono degli sforzi ispiratori molto alti, qui lui studiava la pressione esofagea, nonostante rimozioni extracorporee di CO2 molto abbondanti. Questo è uno studio invece su pazienti, che è stato fatto a Monza da Tommaso Mauri e dal nostro gruppo del professor Pesenti. erano 8 pazienti in fase di recupero dall'ARDS in ECMO, vedete che sono malati che stanno migliorando, sono malati che sono in ECMO in media da 28 giorni, quindi un lungo periodo di ECMO, in ventilazione meccanica anche lì da più di 20 giorni, che hanno un gas flow basale, adesso non so quanti devo avere un'esperienza, comunque piuttosto basso, 3 litri al minuto, 7 di pressure support oppure 1 e 1 di Nava Gain, vabbè, insomma dipende dall'EDI, comunque un livello di supporto piuttosto basso, una compliance decente, diciamo così, e uno shunt relativamente basso. Quindi malati che sono in fase di risoluzione dell'ARDS, non più tanto gravi. E in questi malati qua si vede, mi sembra abbastanza bene, che riducendo progressivamente la ventilazione del pomone artificiale, il gas flow, cioè riducendo progressivamente la quantità di CO2 che il pomone artificiale rimuove, aumenta lo sforzo del paziente. Si vede, qui c'è la pressione esofagea, c'è l'EDI, e vedete che l'EDI o la pressione esofagea aumentano progressivamente man mano che si riduce la rimozione extracorporea di CO2. Questa è la relazione tra gas flow e VCO2 e queste sono diapositive che ha già fatto vedere anche l'Io, che di fatto confermano quello che abbiamo detto. Riducendo il gas flow aumenta progressivamente lo sforzo del malato. Qui era indicato anche da parametri più semplici, come la frequenza respiratoria e la P01. e qui c'è la pressione muscolare di cui ci ha parlato Giacomo. C'è una piccola differenza tra Nava e pressure support nel senso che apparentemente in Nava riducendo il gas flow lo sforzo è un po' più basso. C'è da dire che non è tanto facile confrontare le due modalità di ventilazione perché mentre in pressure support l'assistenza è fissa in Nava l'assistenza varia e quindi siccome riducendo il gas flow aumenta le DI se si mantiene lo stesso gain in Nava il malato riceve più assistenza proporzionalmente rispetto all'inizio. Quindi non so se queste due date si possono confrontare. Comunque la risposta fisiologica è piuttosto chiara. e questa anche questa l'ha fatta a vedere Leo relazione tra rimozione del sacroporio di CO2 e pressione transpulmonare. Allora il passo successivo è va bene tutto molto bene funziona così il titolo del lavoro di Langer sulle pecore era un'alternativa alla ventilazione meccanica quindi nella vita reale noi possiamo evitare la ventilazione meccanica la risposta è come dice il professor Pesenti quasi sempre la risposta giusta è dipende direi che dipende dalla malattia dal malato sostanzialmente perché c'è uno studio che mi sembra molto bello molto importante che è stato fatto da Stefania Crotti e Nicola Bottino dal gruppo di Milano con cui adesso lavoriamo su 48 malati con insufficienza respiratoria acuta in ventilazione controllata in ECMO e che nei primi 5-7 giorni dall'inizio dell'ECMO ogni giorno sono andati incontro a dei tentativi di risveglio e di estubazione cioè loro hanno preso tutti i malati che erano in ECMO e precocemente quindi nelle prime fasi della malattia hanno provato a svegliarli e a vedere se potevano tollerare un awake ECMO quindi un ECMO da svegli e da estubati al massimo con un supporto ventilatorio non invasivo CPAP quelli erano i criteri per cui i malati potevano essere estubati questa è la flowchart dello studio da cui si vede che i malati erano divisi in tre gruppi alcuni malati erano in ECMO come bridge al trapianto alcuni malati erano in ECMO perché avevano una riesacerbazione di COPD quindi un'insufficienza respiratoria tipicamente ipercapnica e altri malati avevano la RDS fase acuta di RDS e si vede che tutti i malati che erano stati attaccati come bridge al trapianto e più dell'80% dei malati COPD si sono potuti estubare mentre soltanto un terzo meno di un terzo dei malati con la RDS sono arrivati a fare quello che veniva chiamato nel lavoro spontaneous breeding ECMO e questi sono nel sottogruppo dei malati con la RDS i criteri e si vede che i malati che è stato possibile estubare sono i malati che avevano un rapporto PF una PO2 arteriosa più alta un SOFA score quindi meno più basso quindi meno insufficienze d'organo e dei parametri TAC di fatto che dimostravano un impegno per inchimale meno importante cioè sostanzialmente i malati un po' meno gravi e poi guardate qui non soltanto meno di un terzo dei pazienti con la RDS è stato possibile svegliare ed estubare ma di questi la metà è stata poi rintubata quindi il messaggio è che a differenza dei malati che avevamo studiato con il Tommaso a Monza questi malati qui con la RDS nella fase acuta sono molto più difficili in questi malati è molto più difficile riuscire a controllare il drive per poter arrivare a estubazione e respiro spontaneo non assistito in effetti nel gruppo di malati che si è potuti estubare è stato fatto poi uno studio di modulazione del drive con il gas flow cioè uno studio simile a quello che abbiamo visto prima ok aumenti e riduzione del gas flow per raggiungere due target clinici uno quello che si chiamava soglia di distress cioè è stato ridotto il gas flow finché la frequenza respiratoria non ha superato i 30 o finché le variazioni di pressione esofagia non hanno superato i 20 cm d'acqua e poi il gas flow è stato aumentato per arrivare a una relief threshold cioè una soglia di relief quindi frequenza respiratoria sotto i 10 e variazioni di pressione esofagia sotto gli 8 e ancora si vede che in tutti i malati con riacotizzazione di BPCO e con BRI che erano stati attaccati per BRI al trapianto è possibile raggiungere la soglia di relief mentre soltanto in metà dei malati con la RDS estubati era stato possibile ridurre il drive per raggiungere quei criteri e che nella metà dei malati non si riusciva a farlo neanche con gas flow molto elevati cioè con rimozioni di CO2 extracorporee che superavano l'80% della produzione metabolica totale del malato quindi di nuovo nel malato con la RDS in fase acuta il controllo del drive col circuito extracorporeo è più complicato questo è una una lettera un caso che abbiamo mandato a intensive care medicine che di fatto insomma fa vedere che in questo malato il circuito extracorporeo rimuoveva il 77% del VCO2 e guardate gli swing di pressione esofagea allora perché è così difficile controllare il drive probabilmente lo sappiamo nel malato con la RDS acuta il drive non dipende soltanto dalla CO2 ma dipende anche dall'attivazione di alcuni recettori polmonari per esempio questi qua che si chiamano J-receptors o fibre C broncopolmonari che sono recettori che non sono normalmente attivi nelle fasi nel soggetto sano ma che sono attivati da stimoli come l'edema l'infiammazione la microtrombosi e che sono responsabili di un mantenimento di un elevato driver respiratorio anche se rimuoviamo tutta la CO2 quindi la fisiopatologia della malattia sottostante conta molto è molto più facile fare l'ecmo e il respiro spontaneo nei malati ipercapnici con la BPCO nei malati che sono in brigia al trapianto rispetto al malato con la RDS perché la fisiopatologia è diversa quello che mi sembra il punto più importante è che se si vuole fare questa cosa bisogna monitorizzare i malati ce l'ha detto Giacomo ce l'ha detto Leo bisogna avere un sistema di monitoraggio che ci dica quanto sforzo fa il malato può essere la pressione esofagea può essere l'attività elettrica del diaframma ma evidentemente è una cosa che va monitorizzata perché tante volte non si vede dal ventilatore ok e poi se il malato non è al ventilatore non si vede proprio e quindi clinicamente è molto difficile da vedere se il malato fa tanti sforzi si può provare a modulare aumentando il gas flow se non ci si riesce è meglio tornare indietro sedarlo e ripassare una modalità che ci permetta di raggiungere uno sforzo ispiratorio delle pressioni trasformonari sicure per non aggiungere danno al danno quando mettiamo svegliamo un malato in extracorporea ci sono delle alterazioni degli scambi gassosi che dobbiamo tenere presente i malati svegli ovviamente hanno un maggior consumo di ossigeno e una maggior produzione di CO2 se riusciamo a modulare il drive aumentando il gas flow il malato ventila meno e quindi l'ipoventilazione può predisporre a dereclutamento a teletasie aumento dello shunt e la riduzione del tidal volume è associata anche a un aumento dello spazio morto fisiologico in più siccome l'ecmo venovenoso funziona aumentando la saturazione del sangue venoso misto cioè del sangue che torna al cuore questo riduce la vasocostrizione ipossica che è un meccanismo con cui noi ci difendiamo cerchiamo di mantenere un ragionevole rapporto ventilazione perfusione quindi il messaggio è che quando si attacca un malato in extracorporea e lo si fa ventilare meno c'è il rischio che lo shunt intrapolmonare gli scambi gassosi peggiorino e quindi che cosa si può fare anche qui è molto complicato cercare un equilibrio tra il drive e il gas flow in modo tale che il malato mantenga l'attività respiratoria possa continuare a tossire per esempio se sono malati con la fibrosicistica fare la fisioterapia e poi ovviamente aumentare le pressioni medie delle vie aeree con la CPAP con la ventilazione non invasiva come volete voi ricordatevi sempre che nel malato sveglio questo vale per le ECMO il pressure support quello che volete i target di PO2 e di PH che possiamo accettare sono diversi da quelli che siamo abituati ad accettare in ventilazione controllata cioè l'ipercapnia permissiva l'ipossiemia permissiva che vanno bene nel malato in ventilazione controllata sedato e curarizzato non vanno tanto bene nel malato sveglio anche se c'è chi dice che riesce a tenere malati svegli che fanno di conto con 60% di saturazione però tendenzialmente io credo che nel malato sveglio i target di PO2 e di PH debbano essere un po' più vicini a quelli fisiologici poi ci sono problemi tecnici molto rapidamente prevalentemente problemi legati al drenaggio ok al flusso extracorporeo il malato che respira ha delle grosse oscillazioni può avere delle grosse oscillazioni della pressione pleurica e quindi della pressione intratoracica che possono lo sapete ridurre la capacità di drenaggio del sistema è abbastanza tipico avere i malati io li vedo da poco tempo non so abbrigia il trapianto con la fibrosicistica che quando fanno grossi sforzi ispiratori o tossiscono il bypass la macchina suona perché si riduce tanto il flusso extracorporeo cosa si può fare? ovviamente dipende dal volume dal diametro della cannula dallo stato volemico del paziente e poi dall'incannulamento c'è sempre molta discussione su questo può essere che è un incannulamento giugula giugolare cioè prelevare dall'atrio che è una zona che non dovrebbe collabire con le oscillazioni della pressione intratragica possa favorire il drenaggio e in molti posti dove si fanno i bridge per esempio si usano le cannule avalon cioè le cannule che drenano le cannule doppio lume che drenano sia dalla vena cava superiore che dalla vena cava inferiore l'ultimo punto è quello dell'interazione paziente ventilatore che è un punto estremamente importante tanto in ecmo quanto nel malato normale in respiro assistito ne parlerà Laurent Brochard dopo ovviamente anche in questi malati bisogna cercare di evitare se sono attaccati al ventilatore che combattano col ventilatore quindi cercare di limitare il più possibile le asincronie e ci sono un po' di studi noi ne abbiamo fatti alcuni soprattutto nei malati a RDS quindi con compliance molto bassa che indicherebbero che con la Nava si potrebbero avere alcuni vantaggi anche rispetto a un pressure support settato molto bene cioè con un setting molto preciso del trigger ispiratorio ed espiratorio quindi insomma per concludere non in tutti i malati si riesce ma in una quota di malati è possibile controllare il drive respiratorio con il flusso extracorporeo quello che è veramente importante è monitorizzare il paziente guardare quello che facciamo ed essere pronti a tornare indietro se ci sembra che quello che facciamo non sia più utile e ovviamente la possibilità di risposta dipende un po' dal tipo di paziente l'abbiamo detto da quanti giorni è ventilato da che malattia da quante insufficienze d'organo ha sostanzialmente da quanto è grave e da quanto è acuta la condizione per cui è stato attaccato grazie